Si sono vissuti momenti di sofferenza o meglio di tristezza ieri ad un certo punto ad amici nella puntata che ripeto c'è stata ieri 29 aprile 2023. Pensate infatti che durante la settima puntata di ieri nella terza prova della Piamanche il famoso cantante italiano siciliano Cristiano Maggioio avrebbe criticato aspramente l'esebizione dell'eliminato di ieri ossia del buon Giovanni Cricca che vi ricordo ha cantato il pezzo musicale intitolato Grande 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 a mio modo abbastanza bene eppure però l'acqua della bilancia diciamo che è andato un po' a scombussolarsi infatti Maggioioio avrebbe attaccato Cricca addirittura gli avrebbe detto di aver distrutto la canzone in questione parole che pesano come macigni a mio avviso e che probabilmente hanno avuto un certo eco interno interiore che è arrivato dentro a Cricca va bene? Aaron poi vi ricordo che ha cantato Suspicious Minds Cricca grande 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 l'esempizione però non sarebbe piaciuta molto a Maggioioio che avrebbe commentato in una maniera che poc'anzi vi ho menzionato brevemente parlando va bene? Vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi carissimi utenti di youtube mi raccomando di iscrivervi al canale di commentare di lasciarmi i vostri commenti perché ci tengono a averli e soprattutto di informarmi di quello che va successo ieri ad amici 29 aprile 2023 ciao